sul canale di news kiwi tu oggi vediamo un articolo su leggo.it che dice barbara d'urso non condurrà pomeriggio 5 mediaset la ringrazia per la professionalità dimostrate per il grande lavoro svolto di redazione web pubblicato proprio oggi barbara d'urso non sarà più al timone di pomeriggio 5 dal prossimo autunno ad annunciarlo è un comunicato stampa canale 5 barbara d'urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più pomeriggio 5 lo annuncia mediaset ringraziando barbara per la professionalità dimostrate per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete il contratto dell'artista ricorda l'azienda in essere fino a dicembre 2023 canale 5 barbara d'urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali barbara aveva terminato la stagione televisiva con ascolti da record per il suo talk show pomeridiano eppure qualcosa sembra non essere piaciuto ai dirigenti mediaset che hanno deciso di non confermarla per la nuova edizione in partenza da ottobre 2023 chi prenderà il suo posto scrivetemi giù nei commenti le vostre ipotesi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti